Benvenuti di nuovo sul nostro canale. Vi siete mai chiesti come un singolo momento, un bacio, uno sguardo o una parola sussurrata, possa cambiare per sempre il corso di una storia? Oggi ci immergiamo nel mondo affascinante de La Promessa, dove la sorprendente storia d'amore tra l'enigmatico conte Ayala e la vivace Petra si sviluppa in un turbine di passione, intrigo e dramma. Quando Petra, una giovane donna dal carattere forte e indipendente, incontra per caso il misterioso conte Ayala, non può immaginare come la sua vita stia per essere stravolta. Ayala, affascinante e tormentato, nasconde un segreto che lo lega al passato e che minaccia di distruggere ogni possibilità di felicità per lui e per Petra. Nonostante le differenze sociali e le forze che sembrano volerli separare, tra i due nasce un legame intenso e travolgente che li costringerà a lottare per il loro amore. Mentre Petra cerca di penetrare la corazza di Ayala e di scoprire la verità sul suo passato, si ritrova coinvolta in una rete di intrighi e macchinazioni che mettono a rischio la sua stessa vita. Ayala, dal canto suo, deve affrontare i suoi demoni interiori e decidere se è disposto a sacrificare tutto per proteggere colei che ama. Tra colpi di scena inaspettati, passioni travolgenti e segreti sepolti, la promessa ci trascina in un vortice emozionante dove nulla è come sembra. Ogni capitolo ci lascia con il fiato sospeso, mentre i protagonisti lottano per realizzare il loro sogno d'amore in un mondo che sembra cospirarvi contro. Non perdetevi l'appassionante viaggio della promessa, dove l'amore è messo alla prova fino ai suoi limiti estremi. Preparatevi a vivere un'esperienza indimenticabile, fatta di emozioni intense e colpi di scena mozzafiato. Benvenuti nel mondo della promessa. Ambientata sullo sfondo di una vasta tenuta piena di segreti, questa storia esplora temi di amore, perdita e redenzione. Ma cosa ha portato a quel fatidico bacio? E cosa succederà dopo? Allacciate le cinture perché stiamo per svelare i vari strati di questa vincente narrazione, rivelando i personaggi, i conflitti e i momenti cruciali che tengono gli spettatori con il fiato sospeso. Per apprezzare davvero la storia di conte Ayala e Petra, dobbiamo prima comprendere il contesto storico de La Promessa. Questo dramma storico è ambientato all'inizio del XX secolo, un periodo in cui le norme sociali stavano cambiando e il divario di classe era evidente. L'aristocrazia, rappresentata da personaggi come il conte Ayala, affrontava sfide da parte della crescente classe media e dei cambiamenti politici. Questo sfondo di tensione e trasformazione aggiunge profondità alla narrazione, mentre i personaggi navigano le loro relazioni all'interno di una società vincolata dalla tradizione. La tenuta stessa, un personaggio a sé stante, simboleggia sia il privilegio che la costrizione, riflettendo le lotte di coloro che la abitano. Ora incontriamo i nostri protagonisti. Iniziamo con conte Ayala, un uomo di fascino e complessità. Non è solo un nobile, è una figura tormentata dal suo passato, in particolare dalla tragica perdita di suo figlio, Feliciano. Questa perdita guida le sue azioni e decisioni, rendendolo un personaggio avvincente che si confronta con il dolore e il senso di colpa. Poi c'è Petra, una donna forte e determinata, con un cuore pieno di sogni. È bloccata tra la lealtà verso la sua famiglia e i suoi crescenti sentimenti per Ayala. Il personaggio di Petra incarna la resilienza e il suo viaggio è una scoperta di sé, mentre naviga tra amore e perdita in un mondo che spesso cerca di sopprimere il suo spirito. Man mano che la storia si sviluppa, diversi eventi chiave plasmano il percorso della relazione tra Ayala e Petra. Il momento del bacio non è solo un punto culminante romantico, è un turning point che accende una serie di rivelazioni e confronti. Dopo il bacio, Petra inizia a indagare sulle circostanze della morte di Feliciano, sospettando che ci sia stata una manovra oscura. Questa ricerca della verità non solo approfondisce la sua connessione con Ayala, ma spinge anche la narrazione in un'indagine avvincente piena di colpi di scena. Ma quale sarebbe una buona storia senza conflitti? La tensione tra Petra e la temibile Marchesa Krutz cresce man mano che Petra scava più a fondo nel passato. Krutz, una manipolatrice esperta, rappresenta le pressioni e le aspettative sociali che minacciano di separare Petra e Ayala. Quando Petra affronta Krutz, assistiamo a uno scontro di volontà che mette in evidenza la lotta per l'autonomia in una società repressiva. La risoluzione di questo conflitto è fondamentale, poiché costringe entrambe le donne a confrontarsi con le loro motivazioni e desideri, portando infine a una crescita personale e a una trasformazione. L'impatto della storia di Ayala e Petra va oltre i confini della tenuta. La loro relazione sfida le norme sociali, mettendo in discussione i ruoli dell'amore, della lealtà e del sacrificio. Come spettatori siamo invitati a riflettere sulle complessità delle relazioni umane e sui sacrifici che facciamo per coloro che amiamo. Inoltre, l'eredità della promessa risiede nella sua capacità di risuonare con il pubblico. È una storia che trascende il tempo, ricordandoci che l'amore può essere sia una fonte di gioia che un catalizzatore di conflitti. I percorsi dei personaggi ci ispirano a riflettere sulle nostre vite, relazioni e sulle scelte che facciamo. L'evoluzione della relazione tra Conte Ayala e Petra si presenta come un ricco arazzo, un'opera complessa e stratificata che riflette non solo i loro sentimenti, ma anche il contesto storico in cui si sviluppano. Ogni interazione tra i due personaggi è intrisa di significato, rivelando le sfide e le gioie di un amore che si confronta con le difficoltà del mondo esterno. I conflitti drammatici che emergono lungo il loro cammino non sono solo ostacoli, ma anche opportunità di crescita e di scoperta reciproca. La loro storia ci trasporta in un universo dove l'amore e la perdita si intrecciano in modi inaspettati, creando un tessuto narrativo che affascina e coinvolge. Ogni scelta fatta dai protagonisti è influenzata da eventi storici e culturali che arricchiscono il racconto e lo rendono ancora più avvincente. I personaggi, con le loro complessità e vulnerabilità, ci invitano a riflettere sulle dinamiche delle relazioni umane e sul potere delle emozioni. Mentre chiudiamo questo capitolo, vi invitiamo a riflettere sui temi che abbiamo esplorato oggi. Cosa significa per voi l'amore? Come navigate le complessità delle vostre relazioni? Se vi è piaciuto questo approfondimento su La Promessa, assicuratevi di mettere mi piace, iscrivervi e attivare la campanella delle notifiche per altri contenuti affascinanti. Unitevi a noi la prossima volta mentre esploriamo un'altra narrazione intrigante che sfida le nostre percezioni e accende la nostra immaginazione. Fino ad allora continuate a sognare, a porvi domande e a guardare.